Siamo in Contrada Santuzza, alle vigne di Adrano, zona protetta del Parco dell'Etna, protetta fra virgolette, alle nostre spalle davvero uno spettacolo indecoroso. C'è una segnalazione da parte di un cittadino, Stefano Sant'Angelo, che tutto l'anno vive qui alle vigne, da residente in questa zona. Cosa vuoi dire Stefano? Mi pare che c'è molto da dire. Io semplicemente trovo ingresciosa questa situazione e non capisco perché non si può pulire tutto questo scembio che c'è qua. Il mio appello, voglio precisare che non è atto a strumentalizzare uno o l'altra amministrazione, ma solo che come singolo cittadino vorrei che questa zona qui verrebbe più valorizzata, è tenuta pulita e faccio anche un invito ai cittadini affinché li possa sensibilizzare a non venire più a buttare la spazzatura qui. Perché ad Adrano esiste un servizio, adesso si parla anche di differenziata, ma io che viaggio tutti i giorni vedo spesso persone che vengono a buttare la spazzatura qui, che salgono appositamente da Adrano per venire a buttare la spazzatura qui. Tu dici che c'è gente che non fa la raccolta differenziata e preferisce fare 5-6 km per buttare la spazzatura qui. Sì, io dico proprio questo perché li vedo, non è che lo dico per dirlo, lo dico perché li vedo e faccio un appello a chi di dovere, all'amministrazione o alla ditta o alla forestale, non so di chi è competenza, affinché possano pulire tutta questa zona, ma non solo questa discarica qui, ma tutta la strada che sale, perché salendo le persone buttano i sacchi dai finestrini e li lasciano adiacendi alla strada. Ripeto ancora una volta, il mio appello è solo quello di pulire e basta. Infatti salendo qui a Levinia abbiamo visto tante micro discariche. Sì, lo so, ma perché la devono buttare ai cigli della strada quando la possono benissimo scendere da casa e tutti i giorni il servizio passa e la raccoglie? Non capisco proprio questo. Tra l'altro ci sono anche dei danni, abbiamo visto due pali della Telecom che stanno per cadere. È successo perché praticamente più di una volta alla sera io quando mi ritiro a casa trovo la spazzatura che brucia. I vigili del fuoco sono diverse volte intervenuti perché ero sempre chiamati, ma stavolta evidentemente non hanno fatto in tempo, non lo so, il palo si è diverto e io penso che tra poco cadrà nella strada. Stefano, parliamo di bollette della spazzatura. Le bollette arrivano qui? Regolarmente, mi arrivano regolarmente, mi applicano anche uno scondo perché è in quanto sono in servita la raccolta porta a porta, ma la bolletta mi arriva, io la pago con tutte le difficoltà, qualche volta in ritardo, ma l'ho sempre pagata voglio dire. Quindi l'appello va sicuramente alle istituzioni ma anche agli incivili che continuano a deturpare questa zona che dovrebbe essere protetta del palco dell'Etna? L'appello è rivolto all'amministrazione affinché possa meglio vigilare su quello che succede e anche ai cittadini affinché non buttino più la spazzatura qui ma la lasciano sotto le proprie abitazioni e affinché poi la mattina chi di dovere la raccolga.